Il più grande investimento che Fano abbia mai avuto nella sua storia lo si ha grazie alla Giunta Acquaroli e al Presidente della Commissione, Luca Serfilippi, col quale collaboriamo fino a portare sino a 104 milioni di euro gli investimenti per Fano, di cui il 30% per il potenziamento della sanità tra ospedale Santa Croce e hospice pediatrico. Esattamente 24 milioni per la nuova palazzina delle emergenze e urgenze. Una data, il 29 giugno, quindi tra pochissimi giorni, ci verrà consegnato il progetto esecutivo che potremo realizzare in 360 giorni. Questi sono i tempi che abbiamo dato alla ditta che ha vinto l'appalto per potenziare l'ospedale di Fano. Perché questo? Perché il pronto soccorso dell'ospedale di Fano, che serve non solo la città di Fano, ma anche due valli, quella del Metauro e quella del Cesano, che è un ospedale di base, di riferimento proprio, che gravita su Fano, ossia quello di Pergola, è il pronto soccorso che svolge i maggiori servizi rispetto all'utenza, rispetto a tutti gli altri pronto soccorso della nostra regione, eccezion fatta per quello di Torrette di Ancona. Quindi era una necessità per la comunità di Fano, dove qualcuno voleva chiudere un ospedale. Noi invece non lo chiudiamo e lo potenziamo. Lo potenziamo anche con l'ospis pediatrico, che avrà fino a 10 posti letto per quell'utenza che avrà bisogno non solo marchigiana, ma anche delle regioni vicine. Ma faremo di più, faremo una ferroesteria con degli appartamenti dedicati alle famiglie per quei bambini che hanno bisogno di cura. Perché quei bambini non stiano in un ospedale, ma stiano in un ambiente familiare. Ma penseremo anche alla riabilitazione pediatrica e quindi questa struttura avrà ancora in più la riabilitazione. Una data, il 24 maggio, pochi giorni fa, ci è stato consegnato il layout che dice che a Fano si farà l'ospis pediatrico di un valore di 7 milioni. Se non saranno sufficienti ne aggiungeremo altri. Perché Lucas e Filippi ha combattuto per questo obiettivo insieme ad alcune associazioni della nostra regione, in modo particolare alcune associazioni della città di Fano, per cui noi diamo risposta a queste battaglie perché il diritto alla salute non deve essere negato a nessuno e vogliamo recuperare il tanto tempo perso. Anche nella formazione dei medici con cui forniremo servizi alle nostre comunità una volta realizzate queste strutture. Fano torna centrale con Lucas e Filippi. Questi sono i fatti. Non ci piace speculare sul tema della sanità, perché di fatto il sindaco se ne deve occupare sempre, ma poi la competenza è regionale. E ci piace dire chiaramente che il tema delle liste d'attesa è un tema vero, sulla quale non è facile controvertere a 30 e passa anni purtroppo di mancate assunzioni di medici. Noi stiamo investendo sulle borse di specializzazioni per i giovani medici per purtroppo sopperire la mancanza di medici. Stiamo dando la priorità a chi ha urgenza, ovvero a chi ha una priorità entro 10 giorni per rispondere ad esempio a tutto il tema della diagnostica o altre operazioni che devono essere fatte con urgenza. Sul resto è chiaro che è importante invertire la tendenza. È un problema nazionale e mi auguro che tutti quanti lavoriamo per potenziare la sanità pubblica della nostra città.